Rientrano in classe nei 98 istituti della provincia i 101.000 studenti fra elementari, medie, superiori e istituti per l'infanzia, nonostante le nomine dei supplenti terminate ieri sul filo di lana e che rischiavano di lasciare parecchi istituti non completamente coperti. L'augurio per il nuovo anno arriva anche dalla presidente della provincia Francesca Zaccariotto, che ricorda come siano stati dal 2009 ad oggi investiti circa 65 milioni di euro. Ma a preoccupare e a scaldare gli animi della rete studentesca sono proprio gli aumenti degli studenti che però, a quanto dicono, non trovano corrispondenza nei servizi scolastici. Le classi sono circa 47 in più rispetto all'anno scorso e gli studenti sono aumentati di circa 4.100 unità. La rete degli studenti ha già annunciato manifestazioni in questa prima fase dell'anno e l'11 ottobre saranno nelle piazze in tutta Italia sotto lo slogan scrivi scuola leggi futuro. D'altronde i numeri parlano chiaro. Un esempio su tutti riguarda gli istituti religiosi per l'infanzia, i quali faticano a star dietro al costante aumento degli iscritti, ma che se chiudessero non troverebbero, parola del governatore Luca Zaia, le capacità anche economiche per far fronte a un simile esercito. Grazie. Grazie.